Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, quarta parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato a Ludwig Feuerbach. Ci eravamo lasciati dicendo che se il fondamento della religione è questo sentimento di dipendenza dalla natura, il fine della religione stessa è il superamento di questa dipendenza, il rendersi liberi dalle costrizioni della natura. La religione nasce quindi per conciliare il contrasto tra il volere e il potere dell'uomo. Mentre la volontà dell'uomo è infatti libera e illimitata, il suo potere è, al contrario, estremamente debole. Feuerbach sintetizza questo concetto con questa frase, aperte virgolette, il fondamento della religione è la divinità della natura, ma il fine ultimo della religione è la divinità dell'uomo. Chiuse le virgolette. Prima di procedere, come sempre, vorrei ringraziarvi per aver scelto di guardare il mio video, per la pazienza che avete con la pubblicità e ricordarvi che i testi dei miei video e gli altri miei libri sono disponibili su Amazon. Libri e pubblicità sono un modo per sostenere il canale e quindi grazie in anticipo per ogni vostro contributo. Quello appena menzionato è, secondo Feuerbach, il motivo per cui ogni religione è in grado di evolversi di pari passo con l'uomo. Presso le popolazioni meno progredite, infatti, Zeus è principalmente la causa o l'essenza dei fenomeni meteorologici. Se ne deduce quindi che il primo passo della religione è quello di far dipendere dalla volontà divina ciò che è indipendente dalla volontà umana, il che è appunto esemplificato al meglio dalla mutabilità dell'atmosfera. In questa prima fase, che è molto vicina ai culti animisti, cioè quelli che attribuiscono qualità divine o soprannaturali a oggetti, luoghi o esseri materiali, l'uomo interagisce con la sua divinità per mezzo della preghiera e dell'offerta di sacrifici, affinché la divinità stessa realizzi i suoi desideri. Il desiderio, osserva Feuerbach anticipando Freud, in quanto volontà priva del potere di tradursi in atto, è quindi l'essenza stessa della religione, e chi non ha desideri non ha neppure dei. La religione serve quindi a domare una natura che ci è ostile, allo stesso fine della cultura o della civiltà, ma seppur in maniera fallace riesce a risolvere quei problemi che per il progresso della civiltà umana sono invece impenetrabili. Questo almeno in teoria, perché nella realtà dei fatti, dice Feuerbach, aperte virgolette, la natura non risponde ai lamenti e alle domande dell'uomo, lo respinge implacabilmente in lui stesso, chiuse le virgolette. Con il progredire dello stato di civiltà, l'uomo si trasforma in un ente morale e politico, ed ecco che anche la divinità cambia, diventando il supremo reggitore dei valori etici e politici. Zeus diventa quindi il punitore degli empi e degli spergiuri, nonché il padre di tutti i re umani, facendo scomparire la forza della natura come tale e il sentimento di dipendenza da essa di fronte al potere politico o morale. Siamo così arrivati al punto in cui l'uomo fa dipendere tutto dalla sua stessa essenza, fondendo i propri valori morali con gli attributi divini e viceversa. I sovrani mortali, ad esempio, sono lodati con prerogative non umane e innalzati a figli degli dèi. Man mano che la coscienza umana progredisce, l'uomo diviene capace di innalzarsi con la volontà e con l'intelligenza al di sopra della natura, ed ecco quindi che il mondo apparirà all'uomo come un ente determinato e dipendente dall'intelligenza e dalla volontà. Di conseguenza anche Dio si innalza alla trascendenza, cioè diventa un ente al di là di questo mondo, un ente che è altro rispetto a questo mondo. È in questo momento che secondo Feuerbach entra in gioco un attributo fondamentale di Dio, che rappresenta però al tempo stesso anche il maggiore vizio del creazionismo. Dio, in quanto trascendente al mondo, deve esserne anche il legittimo creatore. Con parole di Feuerbach, aperte virgolette, se il signore della natura non ne è in pari tempo l'artefice, l'origine e l'esistere di essa saranno allora indipendenti da Lui. Il suo potere sarà limitato e difettoso, chiuso le virgolette. Per Feuerbach, aperte virgolette, il Dio che ha creato il mondo dal nulla non è altro che l'essenza della facoltà umana di astrarre e di immaginare, chiuso le virgolette. Quindi il monoteismo è il frutto dell'unità della coscienza del soggetto rappresentante. In definitiva, sempre citando Feuerbach, aperte virgolette, l'ente spirituale a cui l'uomo attribuisce un rango superiore alla natura non è altro che l'essenza spirituale dell'uomo, chiuso le virgolette. Feuerbach si scaglia così contro la teologia, che concepisce la presenza della finalità non soltanto nella comune attività volontaria dell'uomo razionale, indirizzata alla realizzazione di uno scopo, ma anche nelle sue azioni involontarie e inconsapevoli. Feuerbach prende come esempio gli oggetti celesti e i moti stellari, e sostiene che siccome è possibile prevedere i movimenti di tali corpi per mezzo della matematica, la maggioranza degli uomini si convince, erroneamente, che tali moti stellari siano il frutto di un progetto latente divino, scritto in lingua matematica. Con parole sue, aperte virgolette, così il principio del conoscere è per l'uomo il principio dell'essere. La cosa pensata è la cosa reale, il pensiero dell'oggetto è l'essenza dell'oggetto, chiuso le virgolette. Questo modo di vedere il reale, per Feuerbach, rovescia l'ordine naturale delle cose. I volatili, ad esempio, volano perché non possono fare altrimenti e non perché sono in grado di comprendere tutte le leggi fisiche legate al volo. Inoltre, nel momento in cui dotiamo la natura di intelligenza, come fa la teleologia classica, incappiamo in un problema molto grave, quello dell'impossibilità di spiegare le malformazioni e le deformità naturali. La natura deve quindi essere concepita come autonoma, non comandata da un'intelligenza divina, ma operante secondo quella che Feuerbach chiama una necessità sensibile. In questo senso, i fiori rappresentano soltanto il momento riproduttivo della vita della pianta. La tela del ragno rimanda esclusivamente alla sua necessità di alimentarsi, eccetera. A questo punto Feuerbach fa un confronto tra politeismo e monoteismo, sostenendo che il politeismo è la fede nella natura intesa come un'essenza umana, mentre il monoteismo è la fede nell'essenza umana intesa come l'essenza della natura. Il politeismo annulla quindi l'uomo dinnanzi alla potenza della natura, mentre il monoteismo stima la singola anima umana superiore a ogni creatura naturale, innalzando l'uomo appunto culminante della creazione divina. Nel monoteismo, quindi, è soltanto grazie all'uomo che la natura assume un senso vero e proprio. Secondo Feuerbach, verrà il tempo nel quale la fede di un Dio in genere verrà considerata superstizione. L'uomo, infatti, comprenderà che Dio non è un ente fisico, ma un ente religioso, un oggetto cioè della fantasia umana che esiste soltanto nella fede e nell'immaginazione, ed esisterà fin tanto che ci saranno uomini che lo onorano e lo pregano. Il passaggio conclusivo è quindi quello della soppressione dei desideri soprannaturali. Secondo Feuerbach, infatti, aperte virgolette, chi non ha più desideri soprannaturali non avrà più nemmeno essenze soprannaturali. Chiuse le virgolette. Bene, e questo è tutto per quanto riguarda l'opera L'essenza della religione, pubblicata nel 1845. Nel 1848, quando la rivoluzione si allarga dalla Francia alla Germania, e poi in Austria e in Italia, Feuerbach partecipa al congresso democratico di Francoforte come osservatore legato alla sinistra democratica, e viene invitato dagli studenti liberali di Heidelberg a dare lezioni pubbliche. Il filosofo accetta, e avendo l'università negato la disponibilità dei suoi locali, a partire dal dicembre 1848 tiene le sue lezioni nel municipio della città. Lezioni che verranno raccolte in volume e pubblicate nel 1851 con il titolo Lezioni sull'essenza della religione. Bene, direi che anche per questo video abbiamo fatto abbastanza. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi, e come sempre un sincero grazie per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima!